Ciao amici di Italia Top Games, giovedì 9 gennaio e torniamo alla normalità con PES con un aggiornamento live dei giocatori in forma o fuori forma prima però vi ricordo che sul blog di PES Italia trovate l'anteprima della prossima settimana del match day e tutti i premi che saranno dati dal 13 gennaio in poi, l'ultima settimana di regali di Konami poi invece sul canale youtube di Italia Top Games trovate in anteprima il gameplay di How Tennis 2 uscito proprio oggi, Australian Open Tennis 2, quindi gustatevi anche questo filmato dal nostro canale perché è una super anteprima allora veniamo a PES, giocatori in forma, Ronaldo, Messi, Suarez, Mané, Dybala, Vidal, Douglas Costa, Acerbi, Suso, Ferro, Aurier Benassi e poi scendiamo Romero, Alex, Vidal, Stevens e poi molti altri chi scende? Scende Matuidi, scende Rui Patricio, Delialdi, mannaggia che c'ho Sissocco, Lamela, Joachim, Caseres, Kalinic, Sepe, Delparma, Ruben Blanco, Varela, Cigarini, Olsen non ho visto Meret, ma spero che ci sia, come ci sia anche Di Lorenzo e come ci sia anche Manolassa scusate, ogni tanto mi esce la rabbia per questa stagione del Napoli veramente infelice, disastrosa ho sempre la speranza che ci si possa riprendere, ma c'è anche Tonali ma va bene, meglio pensare a PES, allora, io questi giorni purtroppo non ho avuto per niente tempo di giocare, ma tra poco mi riprendo, avrò di nuovo tempo e voglio rimettermi sotto allora, ecco qui i giocatori in risalto, ci sono quelli della Ligana con queste carte speciali e poi i giocatori della settimana, come era lecito aspettarsi, c'è Ronaldo, c'è pure Immobile, Salah, ma poi li vediamo nel dettaglio allora, ci metto un po' oggi a caricare, forse perché la manutenzione dei server è appena finita allora, ci prendiamo il bonus giornaliero scusate ecco, sono stato retrocesso in divisione 12 a caso in periodo di attività, in partita classificata mi fa piacere questa cosa, così ricomincio da capo mi piace, adesso ultimi giorni di alcuni impegni che ho e poi dalla settimana prossima o anche dal fine settimana ricomincio a giocare bene a PES mi piace questo ricominciare allora, preparatore di abilità 10 mi aspettavo che arrivassero anche le monete per la campagna modifica perché Konami aveva scritto che l'avrebbe dato subito per il momento non ci sono, non importa, speriamo che arrivino presto vi terrò aggiornati anche su questo perché io me le aspettavo già stamattina c'era scritto così sul comunicato di Konami della campagna modifica staremo a vedere allora, andiamo un po' a vedere gli agenti speciali niente pool, come avete potuto vedere tutti agenti speciali oggi allora, legend english, pair of the week, franchise, ligan quattro agenti speciali questo è il premium agent, quello del legend edition lo giro subito, me lo sono tenuto da ieri così vedevamo assieme chi va da pescare è da tanto che non pesco neanche una palla oro con questo premium agent andiamo in Spagna, vediamo un po' oh, una palla nera, Barcellona, vediamo un po' 3-3-3 qualcuno di voi già avrà indovinato di chi si tratta io non ci arrivo piché, e beh vabbè, ce l'ho già lo uso ben volentieri come ESP per farlo salire di livello insieme a lui, Lazovic e Ronov dopo li trasformo tutto in ESP benissimo, benissimo in momento dell'abilità gestionale mi serve poco ma lo prendo e allora, legend english andiamo un po' al profilo 20% nere, 30 oro e 50 argento io lo lascio lì questa gente comunque ci sono l'english legend ma troviamo anche Ronaldo c'è Messi, Suarez, Lewandowski, De Gea Noira, Boameyang, Pobba, Schultz prima leggenda Chiellini, Lagazzette, Giorca, F non mi ricordo in quale squadra inglese è stato ma può essere una mia dimenticanza ecco Petit e poi altre leggende ce ne abbiamo Liumberga, 84 e poi mi sa che sono 4 le leggende onestamente io questa gente non lo giro proprio ma anche no allora, giocatori della settimana e qui invece le cose si fanno decisamente interessanti perché abbiamo un Ronaldo 97 e chi non lo vorrebbe Varana, 92 niente male Salah, 92 niente male neppure lui Sirigu, 91 niente male Immobile, 91 forse si meriterebbe un po' di più in questo periodo Ciro Immobile è davvero scatenato Gravel Jesus, 90 Gomez è 89 eccezionale anche lui in questo periodo Madison, 86 crescita niente male terzino sinistro 85 anche se adesso sono un pochino più coperto Noble, 84 questo ci interessa di meno e questo Vulei cinese che ci interessa ancora meno allora, visto che adesso di monete ce ne ho perché me ne regalate tante Konami anche a voi e qui tre giri da gente ci vogliono tutti perché io voglio Ronaldo voglio Ronaldo chi non lo vorrebbe Ronaldo vediamo, vediamo, vediamo dove andiamo Italia, Italia, Italia o lui o Immobile o Gomez eccolo qui e va bene abbiamo pescato Gomez seconda punta posso riadattarlo per il mio 4-2-3-1 ma voglio dire con altri attaccanti è ben differente la faccenda però eccolo qui grandissimo Gomez veramente sta facendo un campionato a dir poco eccezionale complimenti all'Atalanta per me squadra meravigliosa allora andiamo avanti secondo giro vediamo speriamo di andare in Italia o in Inghilterra per Salah ma preferirei Cristiano Ronaldo tu 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 Italia 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 e niente e abbiamo crescito terzino sinistro che mi interessa mi piace crescito terzino sinistro ovviamente preferivo Cristiano Ronaldo sia chiaro ed eccolo qua è crescito abbiamo preso due palle nere ma proprio ai limiti andiamo avanti aumento familiarità ok tutto paghiamo con monete MyClub ultimo giro speriamo in Cristiano Ronaldo vorrei tanto Cristiano Ronaldo ancora Italia ancora Italia sì è lui non può essere che lui c'era solo lui tra di giocatori della Juve eh sì Cristiano Ronaldo pum 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 Cristiano Ronaldo che bello eh mi piacerebbe vederlo anche in realtà in questa maglia si dice che lui in realtà volesse venire a Napoli prima di andare a Juve però dell'Aurentis non l'ha voluto vabbè scusate ogni tanto mi scappano queste uscite Ronaldo benissimo e allora andiamo a vedere queste carte speciali con Neymar 94 e mi piacerebbe anche lui decisamente Koscielny 91 Depay 89 però i parametri penso che siano quelli soliti non siano stati aumentati Payet Golovin Perrin André 86 Delors 86 Gradel 86 Dante 85 Tomasson 85 Raikovic 84 Portiere Traore 84 Mangani Manganio Manganì 83 Tantissimi questi giocatori Commissi 83 Mendoza 83 però al di là della carta speciale non Colibali non quello del Napoli ovviamente 83 Kurt 82 Traore 82 ma sono tantissimi Ferrat 82 e basta ma quanti sono 20 giocatori e qui la possibilità di pescare Neymar sono piuttosto basse quanti giri possiamo fare qui vediamo profilo mi sa che qui possiamo fare giri all'infinito ma vabbè allora io un giretto me lo faccio perché Neymar lo vorrei e poi valutiamo un attimo se è il caso di continuare perché 20 giocatori sono tanti va bene andiamo in Francia questo era chiaro e infatti Neymar non esce di chi si tratta 27 non lo riconosco onestamente Amari e si tratta di un TD 84 con quelli che mi ritrovo in squadra sinceramente diventerà un ESP sicuramente giocatore livello 1 facciamo un altro un altro giro anche se sono scettico ho trovato Cristiano Ronaldo che mi frega no vorrei anche Neymar però non mi posso lamentare oggi vediamo un po' giù palla nera vediamo di chi si tratta non lo riconosco Perrin palla nera vediamo DC 86 interessante però Hobbit e Delict che ci faccio con Perrin dopo dispiace pure trasformano in ESP questi giocatori d'accordo ultima girata ultima proprio perché non posso trovare lo stesso giorno Cristiano Ronaldo e Neymar sarebbe troppo però uno ci spera pure vediamo e vediamo che succede palla d'oro e abbiamo questo giocatore che non riconosco onestamente Mangani o Mangani non lo so come si legge CC83 ciao ciao e anche tu diventerai un ESP direi che con questi giocatori player choice sono 20 perché per ogni squadra c'era un giocatore qui potete girare quante volte volete io mi fermo qui perché a trovare Bappé Neymar scusate la vedo dura anche Bappé è un giocatore che vorrei allora questo Cristiano Ronaldo super lo possiamo vedere subito in elenco dei membri che subito supera De Bruyne De Bruyne l'ho livellato al massimo livello 18-18 Cristiano Ronaldo invece è da aumentare il livello 1-17 e lo pomperò a bestia mi sa tanto non lo so se lo userò come essa mi sa tanto lo userò come punta che penso che non avrà grossi problemi mi esalta la cosa mi esalta lo ammetto sfide di oggi non penso che ci siano novità infatti sono le solite vediamo le challenge le introductory sono aumentate sembrano però sono tutte bloccate infatti mi è rimasta solo quella però erano scomparse prima mi sembra può essere che mi sbaglio e ho un ricordo sbagliato e poi anche qui avremo ecco il worldwide collapse quelle di sempre bene amici vi ringrazio per avermi seguito mi direte che sono un culone perché ho pescato Cristiano Ronaldo però l'ho pescato al 9 di gennaio e quante volte ho fatto brutte pescate quindi mettete tutto assieme prima di darmi del culone e basta e vi ringrazio ancora per seguire il canale per seguire il blog per seguire il sito per commentare in tanti è molto divertente piacevole interagire con voi su youtube sui social ovunque eccolo qui sono tanto contento lo ammetto di questa pescata e mi fa venire voglia di ricominciare appena mi è possibile giocare a PES e risalire le divisioni mi piace questa cosa della divisione 12 vi racconterò la mia risalita ero arrivato in divisione 4 mi sembra una settimana anche 3 cercheremo di fare lo stesso adesso con CR7 sarà tutto più semplice me lo auguro grazie buon PES buon fine settimana a tutti e a presto qui o ovunque sapete dove rintracciarmi ciao